Ciao, che belle cose, su un carcelo sangue, ma fai sempre la giocci di me. Ciao, Ennio Daniels, direttore della Dream Bank. Hai paura della crisi? Metti al sicuro i tuoi sogni con rendimento del 4-5 l'orto animo e una tripla garantita. Dream Bank, buonanotte e soldi d'oro. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, sono il signor Peluso, ho un appuntamento questa notte. Ah, sì, sì, prego, se è comune. Grazie. Ora mi dica, a che tipo di prodotti vuoi essere interessato? Guarda, io ho visto la vostra pubblicità del 4,5%, una piccola somma da investire, circa 10.000 euro, e volevo capire che cosa mi consigliavate. Non so io cosa fa il caso solo. Per clienti come lei abbiamo qualcosa di davvero speciale. Sto parlando di investimenti che possono affrontare non al 40-50%, ma fino al 20% sul suo investimento iniziale. Vedi, devi capire una cosa, la crisi è vero, è disoccupazione, povertà, disperazione, ma la crisi è un'opportunità, soprattutto per chi come noi ha le capacità, le opportunità e i soldi da investire. Non mi faccia capire meglio. Non sto parlando dei CTO, capisce? CTO, come Che Divina Opportunità. Praticamente lei investe su dei prestiti che vengono ceduti a noi, con la certezza, e sottolineo la certezza, di un succulento rendimento sul suo investimento. E sa come faccio a dire la certezza? Guardi qua. Questa è la tripla A che viene assegnata a tutti i nostri investimenti e alla migliore garanzia su loro rischio. Ma è grandioso! Ci sto! Grazie mille! Ho appena concluso l'affare della mia vita. Perché non festeggiare? Eeeeeee! Alla migliore! Ma cosa stiamo festeggiando? Ho fatto l'affare della mia vita. Sono andato in banca e ho comprato un tipo dei CTO. Ma stai parlando dei CTO? Collateralized Debt Obligation? Brava, proprio quelli! Ce ne hai anche tu! Ma che sei scemo! I CTO sono spazzatura. Le banche e gli istituti di credito concedono prestiti molto rischiosi a persone che non hanno la possibilità di ripagarli. Gli stessi prestiti vengono venduti alle banche di investimento, questo naturalmente per fare soldi. E per lo stesso motivo le banche di investimento combinano insieme una serie di prestiti creando particolari derivati chiamati CDO. I CDO vengono venduti a persone proprio come te che hanno voglia di investire. In questo modo loro guadagnano e il rischio è tutto addosso a te. Peluso, però adesso svegliati! A presto!